Brava Alla! Non voleva andare neanche in San Germano e in Cina. Dopo me in San Germano e in Cina. Chi era stampare, mi è stato riuscito. O al Milan o al Dott. E poi... Resto al Dott. O al Milan o al Dott. O al Milan o al Dott. Volevi che tornava un maristava al Milan. Organi non ancora più. Sì, certo. Sì, certo. Sì, certo. Sì, certo. Dott, dott. Sì, scoppa. 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 L'area di ristoro dei tre atleti. Che hanno finito di giocare e che devono giocare alle tre della prima partita. Sì, scoppa. Sì, scoppa. di Roma, con le magliette bianche e la Virtus Quangeli, che ha finito di giocare, mentre la Realistica Torana-Roma, appena arrivati da Roma, devono giocare la seconda gara, in pomeriggio, verso le ore 15.